buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di gradatorie per le supplenze 2022 e daremo dei consigli per non sbagliare le scelte la domanda numero 1 per non rischiare l'esclusione delle gps per l'anno scolastico 2022 2023 come si deve agire nella procedura di scelta delle preferenze per l'ottenimento di una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno chiaramente si intende 31 agosto e 30 giugno del 2023 bene l'aspirante alle supplenze che si trova inserito nelle gps 2022 2024 durante la procedura di indicazione della scelta delle preferenze per l'ottenimento di una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche deve inserire in ordine di preferenza tutte le tipologie di posto tutte le classi di concorso e coprire tutte le preferenze puntuali e o sintetiche della provincia di riferimento domanda numero 2 in caso di abbandono del servizio dopo aver accettato una supplenza da gps fino al 31 agosto al 30 giugno anche di uno spezzone di sette ore quali sarebbero le conseguenze allora le conseguenze sarebbero molto pesanti il docente sarebbe escluso per l'intero biennio 2022 2023 2023 2024 dalle gps di tutte le classi concorso e tipologie di posto sarebbe escluso ma solo per le supplenze fino al 31 agosto al 30 giugno anche dalle gradatori di istituto non sarebbe invece escluso dalle gradatori di istituto per supplenze brevi domanda numero 3 è possibile lasciare una supplenza breve da gradatore di istituto per esempio anche di orario cattedra per una supplenza da gps su per esempio uno spezzone si è possibile lasciare una supplenza breve e anche di orario cattedra da gradatore di istituto per prendere uno spezzone fino al 30 giugno al 31 agosto da gps il tutto non comporterà alcuna sanzione per il docente speriamo che queste risposte alle domande poste dai nostri lettori siano utili per tutti i nostri telespettatori seguitici ancora sul nostro sito www.tecnicadellascola.it e seguiteci pure nei nostri canali social come per esempio facebook o youtube un ringraziamento a tutti e arrivederci a tutti i nostri canali social come per esempio il nostro sito www.tecnicadellascola.it e seguite